Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà! Lui è Francesco Milillo, un bravissimo cantante che ormai conosciamo, è ormai ospite fisso su questo canale Assiduo Assiduo, poi mi chiede delle cene in cambio, vabbè, non è vero Questa è una puntata come avete visto dall'introduzione dedicata alle controvoci Ce n'è già un'altra su questo canale dove spieghiamo un po' i moti delle voci, come si muovono Ma oggi vogliamo fare proprio degli esempi perché ci è stato chiesto di fare proprio degli esempi su come si possono muovere due voci insieme Sigla! Canta, 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 in libertà Bene, abbiamo deciso di fare un esempio sulla canzone molto famosa di Ed Sheeran che è Perfect Questa canzone, vi facciamo ascoltare una parte dove gli accordi sono quattro E sono Sol maggiore, Mi minore, Do maggiore e Re maggiore Quindi, questi accordi, ogni accordo è formato da tre note e tra di loro ogni accordo ha in comune qualche nota Perché vi dico questo? Perché, ad esempio, tra il Sol maggiore Che è formato da Sol, Si, Re E il Mi minore Che è formato da Mi, Sol, Si Ci sono due note in comune che sono proprio Sol e Si Mentre a una parte ci sta il Re, nel caso del Sol E nel caso del Mi minore c'è il Mi Ma Sol e Si sono due note in comune Quando si canta, ad esempio questa canzone Vi facciamo subito un esempio Inizia così Ok, vediamo che Francesco si è fermato sulla nota Si Quindi, essendo noi in Sol maggiore Abbiamo il Sol e il Re che sono liberi per poter cantare un'altra voce Ad esempio, io decido di cantare il Sol in controcanto Quindi se lui fa Fe, io farò Fe Vediamo come risulta Io ho mantenuto, scusa Francesco Ho mantenuto sempre il Sol perché dalla nota, dall'accordo Sol all'accordo Mi minore Io posso comunque mantenere il Sol perché è presente in tutti e due gli accordi Quindi, facciamo ancora Anche in questo caso, siccome l'accordo che cambia è Do maggiore Il Do maggiore è formato da Do Mi Sol E quindi io ho ancora la possibilità di restare sul Sol Quindi Ancora il Sol ci sta bene Poi, quando arriva Io ho due accordi che sono Sol maggiore e Re maggiore Quindi posso fare Perché nel Re maggiore il Sol cambia a Fa diesis Ok, il Re è formato da Re Fa diesis La Quindi, prima fare il Time E sentite come le voci si intrecciano bene Quindi questo è un po' come si possono muovere le voci Rivediamola tutta Adesso io prenderò come riferimento l'altra nota che era libera Quindi Francesco prenderà sempre il Si che è la parte principale E io prenderò il Re come riferimento Perché nell'accordo di Sol il Re era la nota che non avevamo ancora visto Proviamo a cantare Io canterò il Re Allora, io ho preso il Re Poi nell'accordo di Mi, Sol e Si rimangono Ma il Re passa a Mi E quindi io sono salito di un tono E io qua ho il Do maggiore Posso rimanere al Mi perché il Do maggiore ha dentro il Mi Vi faccio sentire Adesso vi facciamo vedere come Prima, nella prima strofa io prendo come riferimento il Sol Francesco avrà sempre il Si E nella seconda strofa prenderò come riferimento il Re Dove lui manterrà ovviamente la parte principale Proviamo No We were just kids when I fell in love No knowing what it was I will not give you up this time Darling just kiss me slow Your high is on my own And in your eyes you're holding mine E poi andavanti Baby I Dancing in the dark Ok quindi era molto chiaro quello che abbiamo fatto Quindi se voi analizzate delle canzoni Questo è quello che si può fare per scegliere quale controvoce poter cantare Bene come sempre io ringrazio Francesco Midillo per essere venuto in mio aiuto Grazie a te male è sempre un piacere essere qui con te Piacere mio ovviamente E spero che questo video vi sia stato utile Ciao e alla prossima puntata Ciao se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso E se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale Seguimi inoltre anche sulla pagina facebook cantare in libertà E se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti Grazie 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 Grazie